Poracci come non riconoscere lo smash col titolo più impersonale di sempre Moss con una foto profilo del genere non poteva che essere il più rapido di tutti mentre Paolo ci ricorda che la conquista di internet.com è non violenta ma anche piena di stile Così si fa Va bene, andiamo avanti Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate Sorprendetemi Poracci bentornati o benvenuti su TG Poro L'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non avere un selettore della difficoltà Quella di oggi sarà una puntata ricchissima Perché analizzeremo le recensioni di Kirby a un giorno dall'uscita Discuteremo del porting non ufficiale per PC di Ocarina of Time E infine daremo un'occhiata all'ultimo aggiornamento firmware di PlayStation 5 Che aggiunge tante nuove feature ma ancora ne manca una Prima di iniziare però come al solito vi invito a sbloccare la poromorfosi E a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del poroverso Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche E seguitemi anche sul sito Viola Tra l'altro domani ci sarà una live pomeridiana dedicata proprio a Kirby e la Terra Perduta Dove proveremo insieme le prime ore di gioco Mi raccomando non mancate, trovate tutti i link in descrizione Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo E c'è da dare un piccolo aggiornamento riguardante la chiusura degli shop Wii e DSi Che la settimana scorsa sono improvvisamente morti E ci sono buone notizie, più o meno Vi ricordate, no? Su Reddit gli utenti si sono resi conto che i negozi digitali di queste due console Erano improvvisamente inaccessibili In realtà si tratta di shop chiusi da anni Ma ora era diventato impossibile accedervi anche solo per riscaricare i propri acquisti Una situazione non proprio piacevole per i pochi utenti ancora attivi su Wii e DSi Comunque, Nintendo ha dato una risposta ufficiale in merito E no, gli store non sono stati chiusi definitivamente Ci sono solo dei problemi tecnici E Nintendo sta lavorando per risolverli È impossibile dire quando tutto tornerà alla normalità Ma direi che mi sembra non ci sia fretta di risolvere una situazione Che interessa una fetta molto circoscritta di utenti Ricordatevi però che prima o poi Nintendo i server li chiuderà definitivamente Vi ricordo poi che il 7 aprile sarà pubblicata la remaster di Chrono Cross Un JRPG che merita di essere riscoperto Soprattutto in questa nuova edizione che promette di apportare un bel po' di migliorie Tra le tante nuove feature c'è anche un riarrangiamento della splendida colonna sonora Composta originariamente da Yasunori Mitsuda Square è ben consapevole dell'importanza del comparto sonoro in un titolo del genere Tanto che ha pubblicato un trailer dove vengono proposte delle brevi anteprime di brani inediti e nuovi arrangiamenti Dategli un ascolto perché la qualità sembra veramente alta Se stavate attendendo con impazienza Suicide Squad Beh purtroppo ho brutte notizie Il titolo è stato ufficialmente rimandato al 2023 E l'annuncio era ormai nell'aria da un bel po' di tempo Anche perché Warner Bros. tra Gotham Knights e Hogwarts Legacy Non penso abbia nessuna fretta di far uscire uno dei titoli più attesi in assoluto degli ultimi anni L'annuncio arriva ufficialmente dal team di sviluppo dopo diversi mesi di rumor E niente, bisognerà aspettare fino alla primavera 2023 Un altro anno pieno Io do massima fiducia a Rocksteady Sono veramente curioso di scoprire il loro prossimo progetto Ma non voglio che lo chiudano con fretta E poi dai, il video di accompagnamento è simpatico Ma bene, passiamo alle notizie del giorno Ieri, mentre noi eravamo impegnati a parlare di un titolo di 18 anni fa È scaduto l'embargo su Kirby e la Terra Perduta E siamo stati inondati dalle recensioni a cura della stampa specializzata E qual è il verdetto intorno al titolo? In maniera piuttosto prevedibile, Kirby e la Terra Perduta Si porta a casa una serie di consensi entusiastici Un po' come ne avevamo già parlato in live Era prevedibile che il titolo si sarebbe posizionato intorno all'80-85 su Metacritic E che si sarebbe trattato del classico gioco che fa il suo Senza eccellere particolarmente in nessun campo Ma che comunque è in grado di esercitare interesse su un vasto pubblico Da giovanissimi fino agli adulti Insomma, non dimentichiamoci che si tratta del primo episodio della saga Ad essere completamente in 3D Un passaggio atteso ormai da due decenni dai fan della serie E fa veramente piacere scoprire che in realtà Si tratta anche di una sorta di ritorno ai picchi qualitativi raggiunti con Planet Robobot Uno dei titoli preferiti in assoluto dalla fanbase C'è però un aspetto che sembra aver diviso in due giudizi E riguarda la difficoltà complessiva dell'esperienza Aspettiamo ovviamente di provare con mano Kirby e la Terra Perduta Ma sono sicuro che questo sarà il focus principale della discussione attorno al gioco L'eccessiva semplicità è necessariamente un punto a sfavore di una produzione? Oppure possiamo pensare che ci si possa divertire con un titolo Che non mette esplicitamente alla prova l'abilità del giocatore C'è insomma una via di mezzo tra i Souls-like e le Visual Novel? Secondo me sì e non vedo l'ora di poterne discutere assieme a voi Una volta approvato il nuovo Kirby Voi intanto però ditemi Che idea vi siete fatti dalla demo e da questa prima ondata di recensioni? Pensate che si tratti di un gioco troppo facile E indirizzato solo a un pubblico di bambini? Bene rimaniamo dalle parti di Nintendo ma iniziamo a muoverci in una zona grigia Perché bisogna parlare assolutamente di un progetto fanmade Di cui in realtà vi avevo già accennato in passato Ovvero il porting non ufficiale per PC di Ocarina of Time Il lavoro portato avanti dal collettivo Arbor Masters è finalmente completo E con sé porta una piccola rivoluzione nel mondo del retro gaming e della preservazione del medium digitale Partiamo innanzitutto dall'aspetto più interessante di tutta quanta la faccenda Si tratta di un progetto su cui difficilmente Nintendo potrà avanzare pretese legali Questo perché il porting per PC non utilizza alcun asset proprietario di Nintendo Essendo stato creato tramite il reverse engineering del codice originale Questo significa che con un lavoro mastodontico Tutto il codice di Ocarina of Time è stato decompilato e riscritto in C Per dare vita a un software a parte Questo è in grado di attingere a delle ROM ottenute legalmente Tramite il dump delle cartucce acquistate E ricreare così in modo immediato una versione nativa per PC C'è anche un precedente perché in passato Nintendo non ha potuto nulla Con il porting di Super Mario 64 su PC avvenuto nel 2019 E il collettivo è fiducioso che anche in questo caso non subiranno ripercussioni legali Ma qual è il vantaggio di un tale porting? Beh il gioco si presenta in quella che già adesso è la sua versione migliore in assoluto Grazie a nuove implementazioni come il supporto all'ultra widescreen A mouse e tastiera 4k e anche alle mod C'è già chi sta lavorando a pack grafici aggiuntivi A nuove texture e modelli E anche a implementazioni folli come il ray tracing Tra gli aggiornamenti futuri sono stati promessi Il supporto ai 60 fps Nuovi sistemi di controllo col doppio analogico E anche versioni pensate per Linux e Mac Tutto ovviamente gratuito Mentre sulle versioni ufficiali a malapena si riesce a renderizzare la nebbia Ma questa è un'altra storia E per chiudere la cosa migliore di tutto è che questo progetto sembra solo la punta dell'iceberg E qualcosa si sta muovendo nelle community dei retro game e dei modder C'è già chi ha lavoro sui porting nativi per PC di capolavori dell'epoca Come Banjo e Kazooie, Perfect Dark, Majora's Mask e Paper Mario Io per sicurezza non vi lascio il link per provare il porting Ma chi cerca trova E dateli un'occhiata perché presto con l'arrivo di mod corpose ne inizieremo a vedere delle belle Chiudiamo con l'ultimo aggiornamento firmware di PlayStation 5 Che arriva poco dopo l'aggiornamento alla versione 14.0.0 del sistema operativo di Switch Ovviamente non ha senso fare una comparazione diretta tra i due sistemi Ma c'è un dettaglio che mi fa troppo divertire Eh sì, perché devo dire che nonostante si tratti di un'interfaccia un po' troppo confusa a primi gusti Quella di PlayStation 5 è una dashboard ricca di funzioni interessanti Ed è apprezzabile come Sony la aggiorni costantemente Plasmando il sistema operativo della console sul feedback degli utenti Quindi con questa ultima versione arrivano un'infinità di migliorie Che riorganizzano tanti aspetti dell'esperienza utente Vi lascio in descrizione il link con tutte le patch notes E vi segnalo inoltre che sul PlayStation Blog è stato annunciato per i prossimi mesi L'arrivo del supporto al VRR, ovvero il Variable Refresh Rate Una feature molto richiesta dagli utenti che dispongono di monitor o televisori compatibili con l'HDMI 2.1 In ogni caso però la cosa che mi fa morire è che nonostante tutti i passi in avanti Fatti con l'ultima versione Su PS5 mancano ancora le cartelle Per una volta Nintendo è il leader in contrastata del settore Ci sono voluti solo 5 anni ma ora possiamo dire che Switch ha una funzione che PlayStation 5 non ha Ma qui la situazione si è ribattata completamente Comunque se avete una PS5 ricordatevi di aggiornare la console Questo firmware update è parecchio corposo E questo però ci era tutto per oggi Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti Per continuare a discutere delle notizie del giorno Noi ci vediamo domani con un doppio appuntamento Sia un video, e si tratterà di un'altra retrospettiva Sia una live dedicata alle prime ore di gioco di Kirby e la Terra Perduta Che avrà inizio verso gli 16 Mi raccomando non mancate perché sarà una giornata poraccia al 100% In ogni caso voi fate i bravi e riposatevi Ma soprattutto nerdate duro Io sono il poro Kirby, Michele Porting Ciao Ehi 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 fermo Se questo tipo di video ti piace Prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon Il Patreon dei Poracci Con un piccolo contributo mensile Mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale E in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto Come retroscena, anteprime E anche live esclusive Dove andremo a caccia di retro game Ti lascio il link in descrizione E ricordati che Poracci si diventa Ok